Sono già oltre 600 le firme raccolte per la petizione promossa dal comitato del parchino di via Emilia. Al centro l'antenna della discordia, quella che sarà installata in via Sicilia, a pochi passi dalle abitazioni del quartiere e a 300 metri dalla scuola media. Una torre per la telefonia mobile che dovrebbe avere una potenza superiore ai 20 watt. Le fondamenta sono già state gettate e la scorsa settimana il tema è entrato anche in consiglio comunale con due interrogazioni. Una del consigliere Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle e un'altra di Donato Caporali del gruppo PD. Mercoledì 7 febbraio è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali. Per rilevare la conformità del sedime del palo, cosa vuol dire? Andremo a vedere se effettivamente è stato installato laddove era previsto, nella particella prevista, che come sapete è un'area privata, quindi non è stata un'indicazione nostra del comune di dove poterlo installare. Dovesse essere la particella indicata cosa accadrà? Che intanto si fermano i lavori. Noi avviamo un procedimento di diniego e sarà di nuovo ARPAT, che poi è l'ente che dà il parere per poter installare questo tipo di antenne, rifarà di nuovo tutto il procedimento. Il comune fa, è vero, un primo piano delle antenne, pensate che l'ultimo è stato fatto nel 2017, poi però spesso vengono installate in deroga perché siccome è un servizio di pubblica autorità, se viene richiesto, noi siamo costretti con il parere appunto positivo di ARPAT a dare lo che è l'installazione. Giovedì pomeriggio invece è prevista un'assemblea pubblica alle ore 17 nella sede di Porta del Foro.